La Presidente del Consiglio Meloni fa oggi alla Camera il suo discorso per la fiducia Giorgia Meloni è attesa dalle 11 alla Camera per il voto di fiducia al suo governo. Dopo il discorso in cui la Presidente del Consiglio indicherà le linee programmatiche dell'esecutivo, la seduta verrà sospesa per consentirle di recarsi a depositare il testo in Senato, dove il dibattito e il voto ci saranno domani dalle 13 circa. Quindi, dalle 13 alle 17 la discussione generale, alle 17 la replica di Meloni, dalle 17 30 alle 19 le dichiarazioni di voto e infine la votazione con chiama nominale dalle 19 che si concluderà tra le 20 e le 20 30. 25 ottobre 2022, modifica il 25 ottobre 2022, 9 e 35, diritti d'autore riproduzione riservata.